Nei quattro gironi liguri di prima categoria solo sei squadre hanno avuto accesso al 5x1000 per l'anno 2014 per un importo totale di 7.058,93 euro. Metà della torta aspetta la capolista del raggruppamento Dildo, Bosco Spezia, che raccoglie 60 preferenze per un incasso di 3.197,03 euro. Segue nella pool B il multedo con 1.381,56 euro, frutto di 24 donazioni, mentre chiude il podio una rappresentante dell'estremo ponente, il Baia Lassio, scelta da 31 contribuenti per una cifra di 792,92 euro. A poca distanza veleggiano Real Fieschi, girone B con 658,92 euro e campese, girone C con 629,10 centesimi. Infine ecco il golfodianese, nell'A, con i suoi 399,60 euro. Nei precedenti servizi su Serie D, eccellenza e promozione, abbiamo ricordato il record della Palmese, squadra calabrese di Serie D capace di introitare oltre 80.000 euro, ma sempre in Calabria abbiamo un altro boom targato Bovalino Calcio a 5, 8.900 abitanti, 6.000 contribuenti, 2.000 mi piace sulla pagina Facebook dedicata, ma più di 72.000 euro dal 5 per mille, frutto della generosa passione di metà del paese.